Battaglia vinta per il Comune di Pineto di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, relativamente al pagamento del Limo e della Tasi per le annualità 2016-2019 da parte delle piattaforme petrolifere di Eni S.p.a. e di Edison S.p.a. presenti nel tratto di male antistante la cittadina adriatica. La sentenza della Commissione ha dato ragione al Comune, rilevando la fondatezza delle sue richieste sulla base della vecchia normativa. L'importo complessivo degli accertamenti Imo e Tasi del Comune di Pineto relativi all'annualità 2016-2019 al netto delle sanzioni ammonta più di 8,7 milioni di euro. Sostanzialmente la Commissione Tributaria ha dato ancora una volta ragione al Comune di Pineto riconoscendo la fondatezza degli accertamenti che sono stati poi effettuati ed inviati. L'importo è di circa 8 milioni e 700 mila euro al netto delle sanzioni che la stessa Commissione poi attraverso questa sentenza ha ritenuto di escludere. Per le annualità successive la legge ha istituito l'impi imposta sulle piattaforme marine che decorre dal 2020 e un decreto ministeriale fissa all'individuazione dei comuni legittimati ad avere riconoscimento del gettito tributario. Inaspettatamente però il decreto ha individuato per Pineto solo due piattaforme escludendo le altre e la centrale a terra che raccoglie tutte le lavorazioni delle piattaforme stesse. Per questo l'ente al pari di altri comuni ha impugnato il decreto. Nello specifico il nostro comune ha sempre inviato gli accertamenti su quattro piattaforme e questo nuovo criterio 2020 addirittura ne prevederebbero solo due ma aggiungo che ne abbiamo quasi 11 collegate ad un centro di lavorazione sul nostro territorio quindi è molto naturale capire che questo decreto va rivisto. Lo abbiamo detto attraverso un ricorso dovuto a noi farlo attraverso un ricorso che viene eseguito dall'avvocato Ferdinando Damario quindi attenderemo anche l'esito di quest'altro ricorso. Oggi intanto esprimiamo soddisfazione perché fino al 2019 la competenza era dei comuni e abbiamo fatto quanto era di nostro dovere.